6.000 euro è la cifra complessiva donata da Missione Possibile a 10 associazioni del territorio affinché esse possano distribuirli alle famiglie in difficoltà e cercare di offrire loro un momento per stare insieme e vivere il Natale senza preoccupazioni. Abbiamo deciso di dare gran parte del ricavato al nostro mercatino o di altre attività della nostra associazione come contributo in buoni spesa da distribuire sul territorio. Questo non lo facciamo noi perché non siamo ogni giorno a contatto col disagio, ci siamo affidati a 10 associazioni di cui conosciamo e riconosciamo la serietà e la sensibilità per la distribuzione di questi buoni per far sì che faccia un Natale più tranquillo a tante famiglie che non possono. Anche quest'anno sono tante le iniziative di solidarietà organizzate in occasione proprio del Natale? Sì, oltre al mercatino noi organizziamo proprio il giorno di Natale, il giorno 25, il pranzo di Natale gratis per le famiglie con bambini che versano in disagio. In Missione Possibile si conferma ancora una volta l'associazione più presente sul territorio per soddisfare i bisogni delle tante associazioni che fanno volontariato, fanno assistenzialismo. Oggi bisogna dirlo chiaramente, le istituzioni non riescono ad arrivare ovunque ed è grazie alla collaborazione di associazioni come Missione Possibile che si riesce a soddisfare i bisogni di tante persone che oggi vivono delle situazioni di fortissimo disagio sociale.